Siamo qui con Francesca, di una delle agenzie Bonifazi, quella di Terni, delle tre agenzie di Terni, Terni 2. Allora questa è una bella serata, una serata particolare perché 20 anni per un'azienda sono un traguardo, un numero importante, sono un grande traguardo. Ma soprattutto c'è stata una cosa stasera che mi ha colpito, ma che ha colpito anche tutti quanti, il fatto che questi 20 anni sono nel segno della solidarietà. Cioè questa iniziativa con semi di pace a Ollus per aiutare i bambini in Africa, che secondo me è una cosa particolare. Ecco, tu che stai nel gruppo, che stai dentro, dunque che ne pensi? Penso che comunque sia l'ennesima dimostrazione della non solo professionalità di questa azienda, ma anche della bontà e generosità. Perché comunque nonostante ci allarghiamo ogni anno di più, rimaniamo sempre una grandissima famiglia. E oltre ad essere solitari e molto molto uniti tra noi, perché comunque ci facciamo da spalla, da scudo, ci supportiamo, sopportiamo anche. Abbiamo anche unito questa, abbiamo creato questa famiglia ancora più allargata, guardando anche a chi ne ha bisogno. E penso che sia un grandissimo passo in avanti questo. Dunque meglio di così non si poteva festeggiare. Assolutamente, è crescita, sempre crescita, anche questa. Grazie. Prego, grazie a voi.